Ciao, allora, visto che tra pochi giorni è San Valentino, ho pensato di preparare dei segni a posto per il prato che faremo con la famiglia. Allora, le occorrenti sono fimo rosso, filo di ferro, una formina in forma di cuore e acqua lievita. Iniziamo maneggiando il fimo, baniamo un po' le mani con l'acqua e ammorbidiamo per bene il nostro fimo, poi con la formina andiamo a dargli la forma. Ho soprapposto il cuore aiutandomi con la formina e ora, aiutandomi con una matita, formerò una spirale con il filo di ferro. Ok, la spirale l'ho fatta, ora la devo inserire al centro del cuore. Ora, ho riciclato dei cartoni e ho fatto questa nuvoletta, ma potete fare una forma che più volete. E ora la vado ad inserire qui. Poi ho fatto una forma con dei cartoncini che ho trovato a casa e l'ho inserita sulla spirale. Voi potete fare una forma che più vi piace. Ho fatto anche un po' il ricino. Ecco l'ho fatto. Buon San Valentino a tutti!